Incontro a Teramo per fare il punto della situazione sul grave problema legato all'emergenza abitativa. Riunione organizzata dal Comune alla presenza di tutte le parti interessate per cercare di trovare soluzioni e stretto giro che possano quantomero tamponare la drammatica situazione in cui versano diverse famiglie terramane, costrette in alcuni casi anche a dormire in macchina. C'è stato un incontro interlocutorio ma buono, nel senso che c'era buona intenzione da parte del Comune di poter interloquire continuamente per quanto riguarda l'emergenza abitativa. Intanto diciamo che a livello generale c'è la possibilità da qui a qualche tempo di recuperare degli alloggi anche siti nel Via Longo, quelle che erano housing sociale. Cercherà il Comune di riprendere alcune decine di appartamenti per mettere a disposizione l'emergenza abitativa, cioè quella che ci sono dei casi specifici che devono essere soddisfatti. è stato costituito un osservatorio permanente e quindi da qui si parte per poter ulteriormente soddisfare queste esigenze. Ad oggi quante sono le famiglie che non hanno una casa e sono costrette a volte anche a dormire in auto? Su tutto il territorio provinciale, da non confondere con il territorio comunale, ma sul territorio provinciale dal nostro osservatorio del Sicet si pensa che ci siano una trentina di persone che veramente sono in uno stato di emergenza, macchina, roulotte, in alloggi di fortuna. Però abbiamo un bel numero anche di altre famiglie, sempre un centinaio, che praticamente sono in attesa appunto di avere questo alloggio anche con l'emergenza abitativa. Ma poi c'è un altro numero altissimo di 400 famiglie su tutto il territorio comunale, del comune di Teramo, che precedentemente hanno fatto, l'ultimo bando è il 2014, hanno fatto domanda per poter avere un alloggio popolare. Ma questa è una fascia diversa dalla povertà. Questa è la fascia media che ovviamente non riesce nemmeno a pagare l'affitto, non le spese dell'Enel, l'acqua e luce, che ovviamente è una fascia debole pure lì che attendono una casa popolare. Grazie a tutti.